Col prefetto di Pesaro Tommaso Ricciardi a poche ore da un momento importante della sua vita, non stiamo a sottolineare, non poteva mancare questa opportunità di passare in rassegna il meglio del ciclismo locale e non solo. Sì, ma diciamolo così, non alimentiamo dubbi. Vado via perché vado in pensione e quindi oggi è l'ultimo giorno di scuola e chiuderlo in un contesto così bello con lo sport, che io ho sempre detto che lo sport è vita e cultura, quindi per me è stata una gioia accogliere l'invito di Maurizio Radi che ha organizzato questa bellissima serata. Quindi chiudo veramente in bellezza, nonostante l'ultimo bimestre non sia stato favorevole tra alluvione e un po' di terremoto, però insomma tutto sommato è stato un periodo intenso dove ho più volte rimarcato e quindi colgo l'occasione che mi offrite per ribadire e ringraziare tutti per l'accoglienza, la cordialità, l'affetto, l'afflato con il quale sono stato accolto. Questo rimarrà vivo nei miei ricordi e sarà la molla che auspico vivamente di poter ritornare qui e godermi le bellezze di questa città e di questo territorio.